signora come è andata che ha sentito ho sentito che si è aperto pure il letto momenti il tetto da tutte le parti non sapevamo come scende perché io c'è una scalinata non sapevo come scende una tremarella non le dico il panico proprio lei è romana io no sono orcina sono venuta in vacanza mi volevo godere un po di giorni invece è stato un macello guardi una paura che io sto qua con mio marito non sto aspettando che mi vengono a prendere da roma perché sennò dentro casa ti fanno entrare mica puoi entrare un po di giorni Allora, era disponibile l'ambulanza interna dell'ospedale? Allora, se voi ci avete un'intera scopertata, non vi acto di potere rincazzi manualmente li study! Todi! Todi! selezione mediassa struttura di prider gira Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.